proprio quelle partite ragazzi miei insurse cioè partite proprio mamma mia mamma mia cioè poi piena di gol parliamo cioè quelle partite piene di gol dove si segna facile ma almeno dico almeno fosse stata una partita calma anche polemiche quindi proprio la noia la noia la noia la noia no non sono ubriaco sto ironizzando sì è sottile quell'ironia che non non si percepisce che quell'ironia che proprio si nasconde dietro l'angolo ecco perciò è bene uscire allo scoperto allora detto questo da dove iniziamo 70 70 carne al fuoco mi è piaciuta la fiorentina mi è piaciuta veramente mi è piaciuta la partita perché poi noi in italia predichiamo sempre questo calcio tattico tatticismo stasera proprio valanga valanga ho detto ma sicuro che questa è la serie a un certo punto forse qualcosa valanga di gol pazzeschi bellissimo veramente stavo lì a dire oh ma vada pam 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 gol da tutti i lati sette gol ma soprattutto ben soprattutto ben distribuiti nell'arco della della gara se vogliamo mi è piaciuta come dicevo l'ho detto forse no mi sono già dimenticato mi è piaciuta tanto la fiorentina mi è piaciuta di più la fiorentina del napoli squadra rintosa squadra veramente determinate anche bisogna anche dirlo con con discreta qualità assoluta assolutamente poi ha cambiato un sacco di 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 interpreti pulgar che c'è castrovilli avvic lo stesso sottile che io tanti tanti nomi mi sono divertito mi ha fatto divertire chi ha vinto ha vinto napoli perché innanzitutto è la squadra più più forte tra le due squadra che ha più qualità è una partita dove te la giochi una partita dove te la giochi molte volte vince la squadra che ha più qualità ma c'è un gran bel ma attenzione attenzione ci sono stati degli interventi arbitrali se vogliamo discutibili vogliamo dirlo discutibili diciamolo e sì e sì perché adesso per quanto riguarda il rigore concesso alla fiorentina che poi va in vantaggio appunto quello rigore che pare da regolamento ci stia adesso la tocchi la tocchi dovunque la tocchi a un centimetro a due centimetri la tocchi a distanza ravvicinata volontarietà non volontarietà e pare che sia sempre rigore e allora sfortuna ha voluto che la palla è andata la rigore cosa ci vuoi fare sono regole forse andava secondo me andava adottato un sistema diverso non lo so come bisogna fare però francamente rigori così in effetti sono rigori gratuiti perché che deve fare è normale che in un intervento ad una distanza inesistenza no che è una distanza ad una distanza inesistente è normale che la palla ti può colpire se in movimento braccio scomposto ci può stare normale che li possa colpire però è questo il regolamento che vi devo dire che cosa vi devo dire discorso diverso sul rigore assegnato assegnato a Napoli sui danni di Mertens e la ragazzi miei con tutta sta tecnologia siamo nel 2019 secondo me ma non perché il Napoli ma non si può assegnare un rigore del genere cioè non non si può non 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 esiste cioè è una cosa è una cosa pazzesca e la è simulazione la è simulazione ragazzi miei la è simulazione non è il rigore la è simulazione ancora più grave ancora molto più grave e non lo so come come si sia poi andare potuto assegnare una roba del genere questo francamente non me lo non me lo riesco a spiegare non sto qui a pensare male di 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 Mertens però quella è una roba è una roba brutta secondo me è una roba molto molto brutta non lo so se non fosse stato assegnato se cambiava qualcosa se le sorte di questo e quella adesso limitiamoci a parlare parlare della gara sicuramente ci sono sette gol e questo significa che dietro qualcosa non è non ha funzionato da ambo le parti un Napoli forse ancora sicuramente non al meglio ho visto anche sui calci piazzati molte volte impreparato e anche nel finale lo so pezzella si è trovata la palla lì poteva buttarla dentro un gol ce l'ha pescato Napoli Napoli lì dietro che deve saldarsi meglio e deve consolidarsi stessa cosa l'ha detto della Fiorentina ovvio perché poi il Napoli con la sua qualità perché Napoli ha qualità e lo vediamo lo vediamo nei gol nei gol segnati stasera il gol di Martens è bellissimo proprio poesia ma ancor più bello se vogliamo il gol di Insigne di testa perché viene da un'azione bellissima all'angio lungo Callecon nel mezzo stupendo ma lo stesso gol di Callecon stupendo palla palla di Insigne tagliata benissimo a Callecon che la incrocia alla perfezione bellissimo lo stesso gol di Boateng cioè c'è stata c'è stata roba è robetta la partita di robetta la partita di stasera è mica male cioè tanto tanta roba tanti gesti tecnici apprezzabilissimi assolutamente mi sarei aspettato un Napoli più equilibrato se vogliamo Napoli più più equilibrato sicuramente ma su partita d'agosto quello che era importante erano i tre punti e il Napoli se li è portati a casa però ci ci divertiamo quest'anno quest'anno ci divertiamo perché l'anno è forse un pochettino di meno ma non lo so buona 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 fiorentina comunque per chiudere buona fiorentina anche chiesa stradipante in molte occasioni è andato lì assaltato in una circostanza sia Allan che culpa lì non due giocatori da Torini da poco e quindi tanta roba sul fatto chiudiamo il video e chiudiamo anche e chiudiamo anche l'amo viola se vogliamo poi c'era un'altra recriminazione Ribery atterrato sì sì anche lì per me quelle fallo tutta la vita però però il fallo inizia fuori aria diciamolo sarebbe stata punizione giusto per dire il tutto per racchiuderlo alla perfezione va bene stasera ripeto partita magnosa per cui possiamo anche andare a dormire mica tanto sabato sera discoteca bum 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 forse anche no perché c'è una certa età per cui un grande abbraccio da Neschio fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti che partita avete visto a presto a presto a presto